Fratelli bianconeri e non, buon pomeriggio. Video per tifosi doc, terza puntata. Giampiero Boniperti, ovvero la Marisa. Allora, prima di addentrarmi in questo video vorrei aprire una parentesi per dire una cosa che avrei dovuto dire nel primo video, ma la dico adesso perché mi era un po' passata dalla mente ed è una prefazione importante. Allora, io faccio questi video parlando dei grandi del passato, giuventini principalmente, ma poi anche non, però vorrei farvi passare il messaggio che sono i miei pensieri di che cosa veramente io penso di questi calciatori. Quindi io non vado a documentarmi su Wikipedia e poi faccio il video, assolutamente. Quello che voi sentite in questi video sono i miei pensieri, le mie cose vissute o non vissute, perché ovviamente parlerò anche di campioni che io non ho vissuto, ma vengono fuori poi i pensieri che io maturo nella mia mente di questi personaggi. Quindi, ripeto, non mi documento prima di fare questi video, ne parlo di questi calciatori, sia che ho conosciuto, sia che non ho conosciuto, esprimendo quello che realmente mi hanno lasciato nel cuore questi personaggi. Parentesi chiuse. E quindi, come dicevo, benvenuti nel video dedicato a Giampiero Boniperti, ovvero detto la Marisa. Probabilmente ci saranno alcuni di voi, soprattutto quelli non juventini, che si chiederanno perché la Marisa, scusa? Ve lo spiego subito. La Marisa perché? Perché è praticamente un aneddoto di una cosa successa realmente. Boniperti ha effettivamente questo soprannome, la Marisa. Vi spiego perché. A quello che si racconta, in una partita, prima della partita, alla fine, non lo so, non mi ricordo, arrivò allo stadio una donna molto bella, molto affascinante e andò per salutare Boniperti. Questa donna di nome si chiamava Marisa. Questa donna, non si sa, o perlomeno io non lo so per quale motivo, si avvicinò a Boniperti, si salutarono, si baciarono sulle guance a quanto risulta e Boniperti da quel momento aveva Boniperti con la Marisa, la Marisa, la Marisa, la Marisa e gli misero soprannome la Marisa. Boniperti appunto è conosciuto così. Questo è un piccolo aneddoto per addentrarci in questo breve video, per farvi un po' capire e magari, perché no, andare a ricercare meglio chi era Giampiero Boniperti. Allora, Giampiero Boniperti è stata sicuramente forse, non dico l'icona più grande della Juventus, ma sicuramente una delle più grandi. Questo perché? Perché Boniperti è stato un altro di coloro che hanno veramente dato la loro vita atletica, la vita anche, possiamo dirlo, coniugale alla Juventus, perché Boniperti è davvero un altro Juventino doc. È stato presidente per tanti anni dopo essere stato giocatore per tanti anni, ha vinto tantissimi trofei, ha fatto una marea di gol e faceva parte, ha fatto parte di uno dei tri più forti che il mondo del calcio possa ricordare, John Charles, Giampiero Boniperti appunto e il grandissimo Omar Sivori. Degli altri due avremo spazio in altri video per parlarne, ma oggi dobbiamo parlare di questo personaggio, Giampiero Boniperti, che era un personaggio anche se di grande cuore, ma a mio modesto parere era più crudo di Scierea. Scierea è un personaggio molto più dolce, molto più di tenerezza. Giampiero Boniperti, come si dice qui dalle mie parti, era uno che voleva poca acqua nel vino e lo testimoniava anche il fatto che lui quando faceva i rinnovi in un giorno rinnovava con tutti, senza problemi. Io presumo che ci siano tanti aneddoti su Boniperti che potete andare a trovare scorrendo nel web per quello che riguarda la Juventus, digitate Giampiero Boniperti, sicuramente ci sarà Wikipedia che parla, ma tanti altri siti che raccontano tante novelle. Io non ho conosciuto Boniperti, calciatore, perché io quando lui ha cominciato a giocare io ancora non c'ero e ho conosciuto più che altro il Giampiero Boniperti presidente, che è stato un grandissimo, il binomio Boniperti-Trapattoni, chi se lo può dimenticare, un binomio vincente assolutamente, anche se secondo me potevano vincere ancora di più insieme. Ah, se Trapattoni fosse stato meno difensivista, perché sì che il Trappi era un difensivista, ma di Trapattoni in un'altra occasione. Boniperti ha dedicato la sua vita al calcio giocato e poi ha avuto la fortuna di essere chiamato da Gianni Agnelli dopo aver lasciato il calcio per poter entrare in presidenza, ruolo che ha esercitato per diversi anni, ripeto, con grandi risultati sicuramente. Era un uomo, è un uomo, ancora oggi sicuramente che sembra un po' burbero, un uomo un po', come posso dire, un po' duro, ma sono convinto che in fondo in fondo non sia così. È stato un uomo che Gianni Agnelli ha voluto alla guida della Juventus proprio per il suo grande amore verso la Juventus. Ma soprattutto Gian Piero Boniperti è ricordato per una frase, una frase che noi juventini conosciamo tutti perché è una frase famosa nel mondo, ma che soprattutto ci ha reso un po' odiati nel mondo questa frase. Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. E la Juventus nel corso degli anni l'ha preso alla lettera perché la Juventus ha vinto tutto nel mondo, quindi sicuramente l'ha preso alla lettera. Ora, io per primo sono uno che mi lamento delle poche vittorie in Champions nella Coppa Campioni, però sicuramente va dato merito anche a questo personaggio, a questo grandissimo presidente, che comunque la Juventus è una delle poche squadre esistenti al mondo, mi sa che siano tre o quattro, ad aver vinto tutte le competizioni internazionali. Noi le abbiamo vinte tutte praticamente. Sì, uno mi potrebbe obiettare, non avete vinto il mondiale per club, ok, ma il mondiale per club c'è da qualche anno. Prima c'erano la Coppa Campioni, che abbiamo vinto, la Coppa Intercontinentale, che abbiamo vinto, la Supercoppa Europea, che abbiamo vinto, la Coppa delle Coppe, che abbiamo vinto, la Coppa UEFA, che abbiamo vinto, non so se ne abbiamo vinte tre o quattro di Coppa UEFA, non so nemmeno io, e qualcuno abietterà scherzosamente, avete vinto con Boniperdi anche la Coppa Intertoto. È vero, abbiamo vinto anche quella, è vero. Proprio per questo possiamo vantarci e freggiarsi del fatto che le abbiamo vinte tutte. Quindi questo cosa significa? Che le parole di Boniperdi sono state prese proprio alla lettera. La Juventus ha vinto tutto e continua a vincere ancora oggi. Non vince moltissimo in Europa, ma speriamo di arrivarci presto. E quindi, ragazzi, il sentimento che io ho verso quest'uomo è quello di grande riconoscenza, grande riconoscenza per la sua juventinità grandissima. Anzi, vi dirò di più. Io sono convinto di una cosa, che quando Boniperdi lascerà questo mondo e andrà in paradiso, ammesso che lo accettino, io sono convinto che quando arriverà davanti a San Pietro gli chiederà, senta, io sono il presidente della Juventus, lo sapete, è pronta la mia poltrona bianco-nera? Sono convinto che gli chiederà una poltrona bianco-nera, ne sono più che certo, perché è stato un grande calciatore, è stato un grandissimo presidente ed è ancora più grande oggi come tifoso e presidente onorario. Boniperdi è stato un uomo che ha fatto mirabilie nel gioco, dotato di una classe sopraffina, eccelsa e quindi con gente come Omar Sivori si trovavano ammenadito in campo, due gioielli del calcio mondiale. Non è stato particolarmente fortunato con la nazionale, perché? Perché purtroppo in quegli anni è successa una cosa terribile, terrificante, che è stata la grande tragedia di Superga. Riposino in pace. E questo sicuramente ha fatto ripartire l'Italia come nazione, come squadra praticamente da zero e non c'erano grandi campioni quando poi è stato chiamato anche Boniperdi. Non dimentichiamoci che quella nazionale italiana vinse due mondiali con i giocatori del Torino, una squadra irripetibile, fortissima, giocatori meravigliosi, tutti. Io non me li ricordo, non li conosco nemmeno tutti, non me li ricordo nemmeno tutti, ma per vincere due mondiali vuol dire che avevi una squadra, o uno ne ha vinto di mondiali, no, mi sembra due, nel 34 e nel 38 se non ricordo male. Una squadra veramente unica, unica nel mondo, unica nel mondo, riconosciuta da tutti come veramente una squadra di mostri sacri. E quindi quando successe la tragedia di Superga, Trappatoni fu uno di quelli chiamati in nazionale, ma ripeto, la nazionale era poca cosa, anche perché c'erano ancora le macerie di quello che era successo, probabilmente non si era ancora assorbito questa grande tragedia. Insomma, per una serie di ragioni, però ciò non toglie che io credo che un personaggio come Giampiero Boniperti sia nel cuore di tutti noi, Juventini e non Juventini, perché è sempre stata una persona molto corretta che comunque nel suo piccolo o grande che forse si è sempre fatta rispettare e voler bene da tutti. Ci sono vari aneddoti su di Boniperti, io me ne ricordo uno in particolare che non ho vissuto direttamente, che mi è stato raccontato su Giampiero Boniperti, ed è stato un aneddoto che riguarda un giocatore che si chiama Zico. Io credo che il grande Zico, il giocatore brasiliano che ha fatto parte di una grande nazionale del Brasile, ce lo ricordiamo, ve lo ricordate anche voi sicuramente, e l'aneddoto riguarda appunto questo calciatore e io vorrei se ci fosse qualcuno di voi Juventini che mi sa confermare se è vera questa storia, perché a me è stata raccontata come vera e ci ho sempre creduto, ma non lo so se sia realmente così. E c'è questa storia di Zico che sarebbe arrivato in Italia perché l'aveva comprato la Juventus. Quando arrivò in Italia parlò con il presidente Boniperti e prima anche del primo allenamento praticamente gli cominciò a fare un elenco di cose che lui voleva, Zico, per venire a giocare alla Juventus. Quando ci furono queste richieste a quel che sembra Boniperti lo guardò in faccia e gli disse senta, lei qui è arrivato alla Juventus, lei prima mi fa vedere chi è sul campo e poi ne parliamo. E Zico sembra che non si sia trovato d'accordo con queste parole e Boniperti lo ha spedito all'Udinese, infatti poi Zico giocò nell'Udinese. Io non so se questa storia è vera, se c'è qualcuno tra voi che me la può confermare o non confermare ne sarei lieto. anche perché io, come vi dico sempre, non amo molto documentarmi, andare a leggere storie, è una cosa che non mi piace. Preferisco leggere libri che riguardano cose mie. Il calcio è una cosa che mi piace viverlo quotidianamente ma non mi piace leggere troppo cose del passato. Però se qualcuno di voi, ripeto, sa di questa storia, sarebbe utile anche che ce la potesse dire anche rispondendo appunto al video. Un'altra storiella invece, questa è vera, lo so per certo, riguarda un altro calzatore che anche questo è un calzatore che anche se non ha lasciato un grande segno nella Juventus, ma è un giocatore che ha lasciato il segno nella storia del calcio italiano, perché il giocatore è famosissimo, anche questo ha fatto decine di gol, ha giocato nella Juventus, nell'Udinese, nel Milan, non ricordo se anche in qualche altra squadra. Quando arrivò questo calciatore, che si chiama Pietro Paolo Virdis, basta il nome, il cognome, ve lo ricordate tutti, arrivò alla Juventus giovanissimo e lui, Virdis, che era un sardo, era molto attaccato alla sua terra e quando fu fatto venire via dalle sue terre non era molto d'accordo. Beh, alla Juventus ci rimase pochissimo a forza di lamentele perché non si trovava bene, era giovane, voleva andare via e mi ricordo questo aneddoto dove un giorno Virdis era in vacanza, era in una piscina, dove ricevette una telefonata e gli dissero signor Virdis, guardi, la cercano al telefono, il presidente Boniperti. Virdis alzò la cornetta del telefono, disse pronto presidente, di là il presidente Boniperti gli disse Pietro sei dell'Udinese e chiuse il telefono. Questa fu il trasferimento effettuato di Pietro Paolo Virdis dalla Juventus all'Udinese a quello che risulta e questa dovrebbe essere per certa. Ma questo per farvi capire che personaggio era, era uno che non voleva tante chiacchiere, le cose, qui sei alla Juventus, fai quello che ti dico io, se ti va bene ti va bene, non ti va bene, quella è la porta, ciao. Quindi non ho ricordi proprio specifici perché io il presidente Boniperti l'ho visto un paio di volte, non è che lo conosco come conosco altri giocatori eccetera, però è sicuramente un uomo di un carisma, di una classe, di una correttezza ma soprattutto di una schiettezza che ha pochi rivali e quindi sempre per i più giovani se avete tempo, voglia, andatevi a documentare perché io credo che sapere qualcosa di più del nostro ex presidente oggi onorario e uno dei più grandi tifosi della Juventus sia comunque una bella cosa. Grazie presidente per tutto quello che hai fatto da calciatore e da presidente appunto per la nostra Juventus. Se la Juventus è quello che è, sicuramente una grossa parte di merito è anche tuo. Ciao.